Potrebbe essere stato un vero e proprio duello, con due contendenti che si sono affrontati, pistola in pugno, per regolare un conto aperto da poco, forse la sera prima. Il fatto è che non hanno scelto un luogo isolato per affrontarsi, ma l'ingresso di Lido Risorgimento, ossia uno degli stabilimenti balneari storici di Brindisi, peraltro di sabato mattina, nel pieno di una giornata estiva. Il giallo della sparatoria, con due feriti, un 61enne e un 43enne, entrambi colpiti da una pallottola a una coscia, potrebbe essere ristretto agli stessi due protagonisti, anche se la dinamica precisa non è stata ancora resa nota. Gli investigatori dovrebbero avere in mano le immagini delle telecamere a circuito chiuso di Lido Risorgimento, che sono puntate sul luogo in cui sarebbe avvenuta la sparatoria, ma non si sa se fossero attive in quel momento e soprattutto se esiste una registrazione dell'accaduto. Il sopralluogo della polizia è scattato molto tempo dopo, perché nessuno ha chiamato il 112. Così gli agenti sono arrivati solo quando sono stati allertati dai sanitari dell'ospedale Perrino, dove i due feriti, separatamente, si erano fatti accompagnare con una pallottola nelle gambe. La procura, sulla scorta degli elementi acquisiti dagli investigatori e dei referti medici, valuterà l'eventuale richiesta di provvedimenti restrittivi.